È stato convocato per giovedì 15 luglio al Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo per affrontare il nodo del licenziamento dei 422 lavoratori di GKN di Campi Bisenzio. Al tavolo di crisi parteciperanno il Ministero del Lavoro, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti di GKN, il sindaco della città metropolitana Dario Nardella e il presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Noi abbiamo da stamani un punto di riferimento nell'interlocuzione con chi si è reso protagonista di questo atto così arrogante, inaccettabile e che va assolutamente superato sospendendo, questa è la posizione della regione toscana, la procedura di licenziamenti perché è assolutamente immotivata. Devo dire che abbiamo trovato nel governo, nell'interlocuzione dei Ministeri dello Sviluppo Economico, del lavoro, una immediata e diretta corrispondenza, le istituzioni sono molto forti e molto unite nel chiedere conto. E stamani appunto la sottosegretaria Todd che mi ha detto che formalmente partivano le lettere di convocazione del tavolo per giovedì mattina. La società proprietaria dello stabilimento che produce i semiassi a Campi Bisenzio, ovvero il fondo inglese Melrose, ha annunciato venerdì scorso l'attivazione della procedura di licenziamento collettivo per tutti i dipendenti. Adesso il presidente della regione toscana Eugenio Gianni vuole muoversi su più fronti a partire da quello legislativo. In questo caso la logica che ha portato incomprensibilmente a dire si chiude non è una logica di produzione dell'oggetto ma è una logica finanziaria. Del resto anche nei brevi contatti che abbiamo avuto con gli esponenti locali della GKN il ragionamento che viene fatto è di riorganizzazione da un punto di vista appunto aziendale e organizzativo. Ma questo non può esistere in una situazione quale quella di oggi anche in un'emergenza quale quella stiamo vivendo. Quindi un adeguamento della legislazione, un codice etico che debba essere rispettato e se non viene rispettato porta delle sanzioni molto forti è necessario e ci attiveremo per questo come regione. Intanto a Campi Bisenzio i lavoratori continuano davanti ai cancelli della fabbrica e il presidio permanente di protesta. Grazie a tutti.